il muratorino moribondo 18 martedì il povero muratorino è malato grave il maestro ci disse d'andarlo a vedere e combinammo ad andarci insieme garrone de rossi ed io stardi pure sarebbe venuto ma siccome il maestro ci diede per lavoro la descrizione del monumento a cavur egli ci disse che doveva andare a vedere il monumento per far la descrizione più esatta così per prova invitammo anche quel gonfionaccio di nobis che ci rispose no senz'altro votini pure si scusò forse per paura di macchiarsi il vestito di calcina ci andammo all'uscita delle quattro pioveva a catinelle per la strada garrone si fermò e disse con la bocca piena di pane cosa si compera e faceva suonare due soldi nella tasca mettemmo due soldi ciascuno e comperammo tre arance grosse salimmo alla soffitta davanti all'uscio de rossi si levò la medaglia e se la mise in tasca gli domandai perché non so rispose per non aver l'aria mi pa più delicato entrare senza medaglia picchiamo ci ha perso il padre quell'omone che pare un gigante aveva la faccia stravolta che pareva spaventato chi siete domandò garrone rispose siamo compagni di scuola d'antonio che gli portiamo tre arance ah povero tonino esclamò il muratore scotendo il capo ho paura che non le mangerà più le vostre arance e si asciugò gli occhi col rovescio della mano ci fece andare avanti entrammo in una camera a tetto dove vedemmo il muratorino che dormiva in un piccolo letto di ferro sua madre stava abbandonata sul letto col viso nelle mani e si voltò appena a guardarci da una parte pendevano dei pennelli un piccone e un bello da calcina sui piedi del malato era distesa la giacchetta del muratore bianca di gesso il povero ragazzo era smagrito bianco bianco col naso affilato e respirava corto o caro tonino tanto buono e allegro piccolo compagno mio come mi fece pena quanto avrei dato per rivedergli fare il muso di lepre povero muratorino garrone gli mise un'arancia sul cuscino accanto al viso l'odore lo svegliò la pigliò subito ma poi la lasciò andare e guardò fisso garrone sono io disse questi garrone mi conosci e gli fece un sorriso che si vide appena e levò a stento dal letto la sua mano corta e la porse a garrone che la prese fra le sue e vi appoggiò sopra la guancia dicendo coraggio coraggio muratorino tu guarirai presto e tornerai alla scuola e il maestro ti metterà vicino a me sei contento ma il muratorino non rispose la madre scoppiò in singhiozzi o il mio povero tonino il mio povero tonino così bravo e buono e dio che ce lo vuol prendere chetati le gridò il muratore disperato chetati per amor di dio o perdo la testa poi disse a noi affannosamente andate andate ragazzi grazie andate che volete far qui grazie andatevene a casa il ragazzo aveva richiuso gli occhi e pareva morto ha bisogno di qualche servizio domandò garrone no buon figliuolo grazie rispose il muratore andatevene a casa e così dicendo ci spinse sul pianerottolo e richiuse l'uscio ma non eravamo a metà delle scale che lo sentimmo gridare garrone garrone risalimmo in fretta tutti e tre garrone gridò il muratore col viso mutato t'ha chiamato per nome due giorni che non parlava t'ha chiamato due volte vuole te vieni subito ah santo iddio se fosse un buon segno arrivederci disse garrone a noi io rimango e si lanciò in casa col padre de rossi aveva gli occhi pieni di lacrime io gli dissi piange per il muratorino e gli ha parlato guarirà lo credo rispose de rossi ma non pensavo a lui pensavo com'è buono che anima bella è garrone il conte cavour 29 mercoledì è la descrizione del monumento al conte cavour che tu devi fare puoi farla ma chi sia stato il conte cavour non lo puoi capire per ora per ora sappi questo soltanto egli fu per molti anni il primo ministro del piemonte è lui che mandò l'esercito piemontese in crimea a rialzare con la vittoria della cernaia la nostra gloria militare caduta con la sconfitta di novara è lui che fece calare dalle alpi 150 mila francesi a cacciarli austriaci dalla lombardia è lui che governò l'italia nel periodo più solenne della nostra rivoluzione che diede in quegli anni il più potente impulso alla santa impresa dell'unificazione della patria lui con l'ingegno luminoso con la costanza invincibile con l'operosità più che umana molti generali passarono ore terribili sul campo di battaglia ma egli ne passò di più terribili nel suo gabinetto quando l'enorme opera sua poteva rovinare di momento in momento come un fragile edificio a un crollo di terremoto ore notti di lotta e d'angoscia passò da uscirne con la ragione stravolta o con la morte nel cuore e fu questo gigantesco e tempestoso lavoro che gli accorciò di vent'anni la vita eppure divorato dalla febbre che lo doveva gettar nella fossa egli lottava ancora disperatamente con la malattia per far qualche cosa per il suo paese è strano diceva con dolore dal suo letto di morte non so più leggere non posso più leggere mentre gli cavavano sangue e la febbre aumentava pensava alla sua patria diceva imperiosamente guaritemi la mia mente soscura ho bisogno di tutte le mie facoltà per trattare dei gravi affari quando era già ridotto agli estremi e tutta la città s'agitava e il re stava al suo capezzale e gli diceva con affanno ho molte cose da dirvi sire molte cose da farvi vedere ma sono malato non posso non posso e si desolava e sempre il suo pensiero febbrile rivolava allo stato alle nuove province italiane che si erano unite a noi alle tante cose che rimanevano da farsi quando lo prese il delirio educate l'infanzia esclamava fra gli aneliti educate l'infanzia e la gioventù governate con la libertà il delirio cresceva la morte gli era sopra ed egli invocava con parole ardenti il generale garibaldi col quale aveva avuto dei dissensi e venezia e roma che non erano ancora libere aveva delle vaste visioni dell'avvenire d'italia ed europa sognava un'invasione straniera domandava dove fossero i corpi dell'esercito e i generali trepidava ancora per noi per il suo popolo il suo grande dolore capisci non era di sentirsi mancare la vita era di vedersi sfuggire la patria che aveva ancora bisogno di lui e per la quale aveva logorato in pochi anni le forze smisurate del suo miracoloso organismo morì col grido della battaglia nella gola e la sua morte fu grande come la sua vita ora pensa un poco enrico che cosa è il nostro lavoro che pure ci pesa tanto che cosa sono i nostri dolori la nostra morte stessa a confronto delle fatiche degli affanni formidabili delle agonie tremende di quegli uomini a cui pesa un mondo sul cuore pensa a questo figliuolo quando passi davanti a quell'immagine di marmo e dille gloria in cuore tuo 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 padre grazie a tutti